Mancano pochi giorni e il capoluogo Lombardo avrà una nuova tangenziale, la TEM o tangenziale est-esterna milanese. Nota con la sigla A58 è lunga 32 km e collega la A4 a nord con la A1 a sud, passando all'esterno di circa una ventina di chilometri rispetto all'attuale percorso della est. Questa zona, quindi dell'Interland-est di Milano, è la zona dove abbiamo le due tratte autostradali maggiormente trafficate nel panorama italiano, ma probabilmente anche europeo, che sono la tangenziale est-milanese e la A4. È una zona dove esiste, su cui sono presenti tantissime attività industriali ed è probabilmente il più grosso polo logistico nazionale. Sicuramente quei problemi di viabilità che sono presenti quotidianamente sulle due tratte che ho citato prima, sono stati anche un grosso vincolo per lo sviluppo ulteriore industriale di quest'area. Questa tratta nasce quindi con la volontà di andare a implementare l'attuale rete interconnessa autostradale e portare sicuramente un apporto fondamentale per la risoluzione delle problematiche di viabilità e dare sicuramente un utero sviluppo sia all'aspetto industriale che alla vocazione logistica che ha quest'area. La TEM ha tre vie principali di ingresso a Milano, e cioè la strada rivoltana, la castanese e la paollese, interessate da una completa ristrutturazione chiesta a gran voce da molto tempo dai pendolari, ma che le amministrazioni locali non potevano finanziare. Il nostro obiettivo è di avere un vantaggio del traffico attualmente presente, quindi anche di essere però un volano per le attuali aree logistiche e industriali, e quindi trarre vantaggio da quelli che potrebbero essere le future incrementi che possono avere questi settori, e ovviamente trovare un equilibrio con le altre tratte esistenti, in modo tale da avere un traffico ripartito e diffuso in maniera corretta tra tutta la rete che andremo a creare. Certo, chi oggi si sposta da sud o da nord e non ha interesse ad avvicinarsi a Milano può risparmiare tempo, ma quanto? Allora, la tangenziale est come percorso in termini di chilometri non ci sono particolari vantaggi, però si può ipotizzare una riduzione dei tempi di percorrenza superiore alla mezz'ora, perché attualmente percorrere la tangenziale est nei momenti di traffico intenso richiede più di 45 minuti. La nostra tratta, rispettando i limiti di velocità, viene percorsa completamente in meno di 15 minuti. Sappiamo che Milano è una città che durante i giorni lavorativi più che raddoppia la propria popolazione, in quanto c'è un grandissimo afflusso di pendolari, quindi di persone che vivono fuori Milano e lavorano su Milano, comunque Milano è sicuramente il motore industriale del nostro paese, attrae un grandissimo numero di persone durante il giorno. La TEM è un'autostrada di ultimissima generazione, in cui sono presenti le tecnologie più avanzate. C'è una telecamera ogni 300 metri, quindi si ha una copertura al 100% lungo tutta la tratta di 32 chilometri. Ci sono 51 rilevatori laser e infrarossi, che monitorano la velocità media e lanciano l'allarme in presenza di veicoli fermi. Ci sono inoltre 26 pannelli a messaggio variabile in corrispondenza delle entrate e delle uscite, e un sistema antinebbia che si attiva in automatico con segnaletica luminosa. Il costo per adesso non è ancora stato fissato, ma facciamo due conti. Da Melegnano da Grate, percorrendo la sola tangenziale Est, si spendono oggi 3 euro per 36 chilometri. Oppure si può percorrere la Est, più un pezzo della Nord, per un totale di 35 chilometri e 3,60 euro. La TEM è lunga 32 chilometri e costerà un po' più di questa cifra. Voci non ufficiali parlano di una tariffa fra i 4 euro e i 4,40 euro, ma per i primi sei mesi è prevista una serie di agevolazioni e sconti, soprattutto per i pendolari. Come tutte le autostrade italiane, la TEM è indubbiamente cara. Essendo però considerata davvero come un'autostrada e non come una tangenziale, il limite di velocità è di 130 chilometri orari, il che fa davvero risparmiare tempo. Allora, l'inaugurazione come data conclusiva delle attività è quella del 16 di maggio. La data ufficiale di apertura deve essere definita in base anche alle attività di collaudo e di verifica di elagibilità che sono in corso di sviluppo adesso, di elaborazione e di verifica. E se vi state chiedendo se i misuratori di velocità ci saranno? Ebbene sì, ci saranno.